Ciao a tutti, eccomi qua con l'amico Antonio Riglia, finalmente dopo tanto tempo ci siamo riusciti a organizzare per la prima uscita insieme. Il mare presenta una bella risacca oggi, però fortunatamente qualche cattura siamo comunque riusciti a portarla a casa. Ciao e buona visione. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.